amici carissimi di auto occasioni ben ritrovati in un momento particolare perché noi lo sappiamo che state scalpitando per cambiare la vostra vettura perché è bello partire per i propri viaggi naturalmente in totale sicurezza ma non mettetevi nelle mani di chiunque noi siamo venuti per voi niente meno che dalla regina del risparmio perché mi trovo da queen car in compagna di massimiliano ciao massimiliano a tutti e ben ritrovati alla queen car puntata straordinaria perché intanto partiamo con questa notiziona ovvero non vi preoccupate se non esistono più gli incentivi statali comunque possiamo usufruirne grazie a queen car sì certamente un risparmio che arriva fino a 8 mila euro con gli incentivi statali ma risparmiamo senza accontentarci perché in ogni caso la scelta che abbiamo da queen car è straordinaria a quante vetture siamo arrivati massimiliano addirittura oltre 500 autovetture qui alla queen car in pronta consegna pronta consegna ho sentito bene quindi possiamo venire a scegliere la vettura e portarci la casa sì certamente la cosa importante acquistare oggi ma iniziare a pagare addirittura dopo le vacanze quindi a questo punto massimiliano noi siamo pronti a seguirti perché ogni mese quelle proposte naturalmente cambiano e quindi siamo curiosissime di scoprire quelle che questa volta avete pensato per noi non manca la pronta consegna sulla fiat panda mille ibrida gpl tutte vetture che possiamo acquistare oggi iniziare a pagare dopo le vacanze con un cannone che parte da 99 euro al mese grazie all'offerta evergreen assicurazione manutenzione si possono sempre inserire nel cannone fiat 500 motorizzazione ibrida gpl benzina aziendale chilometro zero davvero ce ne sono oltre 100 vetture disponibili in pronta consegna il cannone parte da 129 euro sempre grazie all'offerta evergreen basta aspettare 8 mesi per avere una vettura in pronta consegna qui in carne a diverse di 500 x 1000 benzina anche a chilometro zero con un cannone di 179 euro al mese sempre grazie all'offerta evergreen inizia a pagare dopo le vacanze assicurazione manutenzione e anche le gomme da neve non mancano le fiat 500 elettriche con un cannone da 199 euro al mese acquistate questa bellissima autovettura vi ricordo sempre non pagamento al bollo assicurazione manutenzione tutte incluse nel vostro cannone cercate comodità e spazio per le vostre vacanze partite con la fiat tipo 1000 benzina 1500 ibrida 1600 turbodiesel aziendale ne abbiamo diverse anche il cannone qui parte da 149 euro al mese grazie sempre all'offerta evergreen risparmio grazie al chilometro zero questa bellissima panda garmin 1000 ibrida il cannone parte da 169 euro al mese cosa aspettate se cercate un'autovettura logicamente economica sia come costo come risparmio di carburante con un cannone da 399 euro al mese venite a provare il nuovo doblò elettrico vi aspettiamo numerosi concessionari ufficiali abarth sia per la vendita e assistenza vetture nuove in pronta consegna come questa bellissima abarth allestimento turismo può essere vostra con un cannone da 259 euro al mese concessionari ufficiali lancia tutto il prodotto in pronta consegna la cercate ibrida gpl tutte vetture con un super risparmio grazie all'offerta evergreen e grazie anche agli incentivi che abbiamo di rottamazione pensate la lancia y1000 ibrida può essere vostra con un cannone che parte da 139 euro al mese cosa aspettate acquistate oggi iniziate a pagare dopo le vacanze passiamo in casa mitsubishi con l'eclipse grazie alla rottamazione un risparmio che arriva fino a 8.000 euro è il cannone da 399 euro al mese mitsubishi spay star 1.2 benzina 1.2 benzina gpl sempre pronta consegna è il cannone da 149 euro al mese vi ricordo ben cinque anni di garanzia vetture aziendali garantite ancora in garanzia della casa madre come un peugeot 3008 allestimento allure cambio automatico il cannone da 289 euro al mese cercate le jeep compass chilometro zero aziendali turbodiesel anche ipev un cannone che parte da 259 euro al mese sempre in casa volkswagen con la t rock 1500 benzina cambio automatico allestimento full option il cannone da 259 euro al mese toyota yaris 1000 benzina aziendale ancora garanzia della casa madre il cannone parte da 169 euro al mese c5 aziendale high cross allestimento full option col cambio automatico motorizzazione turbodiesel con 20 30 mila chilometri ne abbiamo diverse il cannone parte da 229 euro al mese ford eco sport turbodiesel aziendale il cannone 179 euro al mese panda 4x4 solo 9.000 chilometri aziendale il cannone da 169 euro al mese non mancano le alfa stelvio 2 2 turbodiesel aziendali il cannone da 299 euro al mese nissan cascai la cercata automatica benzina turbodiesel tutte vetture in pronta consegna aziendali con un cannone che parte da 199 euro al mese quindi potete scegliere tra 500 vetture potrete scegliere anche la modalità di pagamento ma non solo perché veramente la libera scelta qui è la parola d'ordine perché potrete scegliere anche la sede a voi più comoda ne abbiamo quattro si vi ricordiamo qui a car magnola via porino numero 6 a moncalieri corso savona numero 10 pianezza via susa 52 e a torino in corso grossetto numero 18 e allora che cosa aspettate aspettate se volete davvero risparmiare da queen car dovete assolutamente passare noi vi salutiamo con un saluto carissimo naturalmente da parte di queen car di auto occasioni di massimiliano e di federica aspettate